...in sella Roxeto da Rigoletto, Francesca Lacasella, proprietario e allevatore. ...in sella Roxeto da Rigoletto, Francesca Lacasella, proprietario e allevatore. Grazie. C'è il sorpasso del tempo ed è un risultato in 77 secondi e 46 ottenuto da Roxeto, secondo miglior risultato della gara. Andrea Caselli con Melanda da Cristo e da una figlia di Acor secondo, Francesco Tassinato, allevatore proprietario. Grazie.